Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su MotoGP 2017 per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, eccoci tornati su questo titolo Oggi dobbiamo correre il Gran Premio delle Americhe Che si trova, se non sbaglio, in Texas Terza gara del mondiale di Moto2 Allora, nello scorso episodio in Argentina non siamo andati male Siamo riusciti a risolvere il problema delle gomme Adesso devo cercare di migliorare il mio stile di guida e quindi guidare in modo più pulito Siamo riusciti ad arrivare in fondo con le gomme Invece in Bahrain praticamente le avevamo finite Allora, siamo nella classifica del mondiale in nona posizione E stiamo sviluppando, fatemi vedere che non mi ricordo più Il telaio Il telaio Però quasi quasi prenderei anche un secondo meccanico Dai acquistiamo anche un secondo meccanico E gli facciamo sviluppare Le sospensioni perché i freni costano troppo Ok Poi lo staff sta facendo il suo lavoro Perfetto Ok, direi di andare direttamente alla gara Come sempre vi faccio vedere le opzioni di gara e gli aiuti di guida E noi ragazzi ci vediamo direttamente sulla griglia di partenza del Gran Premio del Texas Va bene ragazzi, eccoci qua pronti per la gara Morbidelli parte dalla pole position Sta facendo un campionato pazzesco Sia qui sia nella realtà ha vinto domenica ad Aragon L'unico italiano che ha vinto praticamente Noi partiamo dodicesimi Corsia interna rispetto alla prima curva Con di fianco Marini e Kent Vediamo cosa riusciamo a fare Perché questo è un tracciato dove ci siamo sempre comportati molto molto bene Solo che ci sono un paio di curve che Devo capire un attimo come interpretare Abbiamo fatto fumare un attimo la gomma posteriore Ok, attenzione qua Vabbè che siamo settimi Abbiamo guadagnato ben cinque posizioni Queste curve qua io le interpreto molto In modo molto diverso rispetto a loro Supero anche Pasini Mi porto in seconda posizione Facciamo prima va No, nella prima parte del tracciato veramente Volo via Sono un fulmine E' nella seconda che perdo veramente un sacco Ci sono Queste super staccate E loro staccano veramente forte Là in fondo addirittura la curva Non la puoi prendere neanche troppo stretta Se no voli per terra come niente Adesso l'ultimo mi ha subito rimesso dietro Considerate che corro con una moto non ufficiale Non posso scegliere un team ufficiale Finiamo lunghi Lo so già Infatti siamo finiti lunghi Comunque siamo lì con loro Ok super morbidelli Sono dietro a Oliveira Ho messo per fortuna la gommadura dietro Perché se no rischiamo veramente di finirla Ah Peccato Ok Siamo quarti Dai che non va male Sì ma guarda come stacca morbidelli Ok Dai che qua li riprendiamo Se Oliveira magari non inchioda Mi fa un favore Che incrocio di traiettorie Oh Tentiamo l'attacco su Luthi In una curva velocissima Tanto lui risponderà sicuramente Ha laggato anche leggermente il gioco Fantastico Beh là gli ho lasciato un attimo Un portone aperto Praticamente Beh velocità ne ho eh Comunque E' solo in frenata che faccio fatica Ma riesco a superare Luthi In una curva Tosta eh Qui sono lungo Sono finito troppo largo qua Mamma mia che brutta Traiettoria Non ho capito che morbidelli come ha fatto a Ah probabilmente ho spostato Luthi E quindi si è infilato anche morbidelli Però la cosa bella è che Mamma mia che lag Però Che lag ragazzi Dicevo la cosa bella è che stiamo lottando per il podio Beh morbidelli sta facendo Praticamente i miei tempi I tempi che facevo Sì ma anche se non mi venite a prendere a sportellate Mi fate un favore Se non lo prendo qua Non lo prendo più Ok bravo Allarga Gomma Gomma ne abbiamo ancora un bel po' Stavolta il portone te lo chiudo Dai che non stiamo guidando male Finiranno Attenzione è caduto Luthi Finiranno anche loro le gomme no? È caduto Luthi Incredibile Eh morbidelli è lì Eh sono finito largo Dai che possiamo ancora attaccarlo qua in fondo Forse Possiamo ancora attaccarlo qua in fondo Dai 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 bacco C'abbiamo ancora una chance Qua in fondo Ci prova Bacco ci prova Non ci credo Non ci credo Non ci credo Niente Ci abbiamo provato Siamo caduti all'ultima curva Niente ci accontentiamo di un sesto posto Oh ragazzi io ci ho provato Volevo vincere Potevo tranquillamente accontentarmi di un secondo posto Però volevo vincere Arriviamo sesti che comunque È un ottimo risultato Però volevo vincere Vabbè niente comunque guadagniamo punti in campionato Non è che siamo distantissimi però da morbidelli eh Se vincevamo Eravamo lì Eravamo lì insieme ai primi È andata così È andata così Ci abbiamo provato lo stesso No aspettate Sono a 51 punti da morbidelli Non ho 51 punti eh no Cambia Niente Possiamo lottare insieme a Pasini Per la quarta posizione Per il momento Tanto lui ha 13 punti in più Poi vabbè Oliveira Marquez e morbidelli Invece ne hanno molti di più Oh Io ci ho provato ragazzi È andata male Se andava bene Invece facevamo veramente Un gran risultato Anche il secondo posto Comunque era un gran risultato Però vabbè Chi non rischia Non vince Ok ragazzi Eccoci Tornati nel menu principale Di MotoGP 2017 Come vi dicevo prima È andata così Ci abbiamo provato Se non rischiavamo Non potevamo sapere Se saremmo arrivati primi Oppure no Non siamo arrivati primi Siamo caduti Siamo arrivati sesti Se invece ci fosse andata bene Riuscivamo a portare a casa Una fantastica vittoria In America In Texas Il prossimo gran premio Si svolgerà Nel circuito di Heretz Della frontiera Quindi corriamo In casa degli spagnoli Per il momento Stiamo andando abbastanza bene Siamo ottavi in campionato Con una moto Non ufficiale Che stiamo sviluppando Come potete vedere Stiamo facendo L'upgrade Del telaio E delle sospensioni Nel prossimo episodio Ragazzi Speriamo di correre Un'altra gara Emozionante Come questa Adesso Purtroppo Vincere Il campionato Il campionato Sarà Durissima Perché comunque Vanno forte La davanti In moto 3 C'è sempre Mir davanti Che domenica Onestamente Avrei punito Con una penalità Dato che Nell'ultimo giro Si è messo a fare Ziggo zago In mezzo agli altri piloti Come sempre ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su MotoGP 2017 Alla prossima ragazzi